Ciao, io sono Elia Calò, ben ritrovato al giardino sotto il naso, ci troviamo qui nel Bar Mita e siamo pronti per un nuovo interessante episodio. In questo video ti parlerò di come calcolare il Dream Cost. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di Amaro Satiro, Liquore Pineta, Vermouth Vita e il nostro New Entry Liquore Almirto Fore, ma ora andiamo a scoprire appunto come fare il nostro calcolo. Bene, prima di cominciare mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella, dindona, dai un'occhiata anche ai nostri altri social Instagram e Facebook, sempre con il giardino sotto il naso, dove pubblichiamo regolarmente contenuti diversi appunto dalla piattaforma YouTube. Ma ora addentriamoci in questo episodio. Perché ho deciso di registrare questo? Intanto volevo ringraziare sia Shamir da Milano che Seba Butta, che effettivamente mi avevano dato già questo spunto qualche tempo fa. Io volevo già registrare questa cosa qui, però insomma colgo l'occasione per salutare anche loro. Il calcolo del Dream Cost è un qualcosa che non riguarda, diciamo, le persone che stanno cominciando adesso. Ecco, questo è più una cosa da bar manager o da food and leverage manager in generale, come figure diciamo professionali, però è importante sapere quanto ci viene a costare un drink in modo tale appunto da poter capire anche quali sono i costi e quanto poterlo poi rivendere. Questa è una cosa molto importante. In realtà nel tuo piccolo, magari cominci a fare qualche piccolo catering, magari qualche compleanno di qualche tuo amico, amico, amica, quello che è, e dovresti farti appunto il calcolo di quanto ti viene a costare un drink. Dovresti lo chiederti, tu sei, sarai pronto a rispondere in maniera professionale. Pronto? Bene, di che cosa hai bisogno? Hai bisogno di una penna o di una matita, di un quaderno e di una calcolatrice, ma puoi usare anche quella del cellulare. Ti farò vedere appunto come faccio io in maniera proprio molto molto semplice. Allora, questo non so perché. Volevo vedere se si legge. Si legge? Mi sembra che si legge bene. Ok, posso cancellare adesso e andiamo. Questi sono gli scherzi che facevo insomma alle scuole elementari e ancora li ripropongo. Pare che funzioni. Se stai sorridendo vuol dire che funzioni. E faccio una piccola premessa. Quello che andrò a dirti è una regola generale, poi va contestualizzata nel locale in cui lavori, nelle costi fissi. I costi fissi e variabili fissi. Sì, sono fissi tipo le utenze che non so dell'affitto, luce, gas, eccetera, eccetera. Però cambiano in base al posto in cui ti trovi. Per esempio, non lo so, ci può essere uno dei locali nel quale ho fatto consulenza, loro pagano circa 13.000 euro al mese di affitto. Mentre in un altro locale, non molto distante da quello dove ho fatto la consulenza, ne pagavano soltanto 2.000. Diciamo soltanto, tra virgolette. Quindi è un po' da contestualizzare il tutto. Ok? Adesso andiamo a vedere, quindi calcolando il fatto che un cocktail è composto da più ingredienti, dobbiamo semplicemente prendere ogni singolo ingrediente e ripetere questa operazione che sto andando a fare insieme a te. Quindi i fattori sono tre. Quindi il primo è il contenuto bottiglia, lo appunto contenuto bottiglia. Il secondo, quindi per esempio questa bottiglia qui è da un litro. Il secondo aspetto è la porzione, quindi quanto andrò a metterne dentro il drink. Per esempio un Negroni fai 3, 4 CL, insomma facciamo 3 CL. Quindi contenuto porzione, basta mettere anche semplicemente porzione. Quindi la porzione per esempio 3 CL. Dopodiché abbiamo un altro aspetto importante che è quanto ci costa la bottiglia. Facciamo finta 10 euro, giusto così per il costo della bottiglia. Per esempio 10 euro. Quindi il calcolo che devo fare è intanto devo suddividere un litro, lo divido, facciamo il calcolo tutto in CL in questo caso, va bene? Quindi che cosa dovrò fare? Dovrò trasformare un litro in CL. Un litro in CL si trasformano in 100 CL, giusto? Perfetto. Quindi questi diventano 100 CL che poi in realtà spesso lo trovi scritto in etichetta, trovi scritto appunto litri o CL. Quindi in questo caso c'è scritto per esempio 100 CL. Quindi 100 CL vado quindi a fare 10 euro che è il costo della bottiglia. 10 euro costo totale della bottiglia diviso il quantitativo della bottiglia appunto che sono 100 CL. A questo punto otterrò quindi 10 euro diviso 100 CL otterrò 10 centesimi a CL. Quindi ho ottenuto questo qui e il costo per CL. Quindi ogni CL di questa bottiglia mi costa 10 centesimi. A questo punto non dovrò fare altro che prendere questo dato e moltiplicarlo per la porzione. Per esempio abbiamo detto quindi 10 centesimi per la porzione del mio negroni, del mio diciamo bitter. In questo caso saranno 3 CL uguale 30 centesimi. Sto scrivendo un po' male però si capisce. Va bene? A questo punto quindi questi sono i passaggi principali ed è un'operazione che deve ripetere per ogni singolo ingrediente. A questo punto ho ripetuto la stessa operazione per ogni singola bottiglia. Ipotizzando che il bitter mi costa 10 euro, la bottiglia è da 100 CL e mi viene 10 centesimi a CL. L'ho moltiplicato per la porzione che sono 3 CL e quindi mi viene di bitter 30 centesimi. Di gin, l'iden, ho fatto finta che insomma la bottiglia costasse 20 euro, la bottiglia da litro mi viene 20 centesimi a CL. L'ho moltiplicato per 3 e mi viene 60 centesimi di gin. Il vermouth mita viene 25 euro, la bottiglia è da 75 CL e mi viene 33 centesimi a CL. Moltiplicato per 3 mi viene 99 centesimi. A questo punto il totale del liquido, degli ingredienti è di 1 euro e 89. Chiaramente questo è il calcolo proprio pelo pelo delle bottiglie. Ovviamente la bottiglia, cioè il cocktail, contiene anche la decorazione. Quindi l'arancia in questo caso per esempio ha un costo. Il ghiaccio ha un costo. Anche se ce lo produce la macchina del ghiaccio, la macchina comunque ha bisogno anche di manutenzione, consuma corrente, consuma acqua. Quindi bisogna tener conto anche di questi fattori qui. A questo bisogna aggiungere tutti i costi fissi, quindi l'affitto, la luce, il gas, il costo del personale. Di solito si aggiunge circa un 30 per cento, quindi più 30 per cento al totale e a questo punto poi si ha il costo del drink. A questo poi bisogna aggiungere il markup, quindi la marginalità. A questo punto aggiungendo un 30 per cento raggiungiamo 2 euro e 46. Possiamo fare 2 euro e 50 per accelerare un pochino la comprensione. A questo punto dai 2 euro e 50 dobbiamo avere il nostro margine e questo poi è una cosa che ogni gestore, ogni proprietario di locale imposta e quindi si può fare, si può moltiplicare per 3, per 5, dipende dall'ambiente in cui lavoriamo. Per esempio se io faccio 2 euro e 50 moltiplicato quindi per 3, a questo punto ottengo un drink da 7 euro e 50, quindi venduto a 7 euro e 50. In quel margine che io ho, automaticamente ho da pagare tutte le altre spese, tasse, eccetera, eccetera, quindi comunque ci sta. Ecco perché a noi effettivamente un drink può costare, in realtà c'è il vermouth e il gin incidono parecchio. Ovvio che se io vado ad acquistare un gin che costa 10 euro automaticamente saprò che la porzione si abbassa notevolmente. Il vermouth idem, in questo caso vermouth smita è un vermouth diciamo di fascia alta e va a incidere abbastanza, quindi 90 centesimi, quasi 1 euro diciamo 99 centesimi su una porzione è abbastanza, quindi dipende poi dall'ambiente in cui lavoriamo. Se lavoriamo in un 5 stelle questo non sarà un problema e chiaramente non potrò utilizzare dei vermouth scadenti perché siamo in un contesto diciamo di livello di livello alto, quindi è tutto da contestualizzare. Ad ogni modo tieniti ben presente questo calcolo e a questo puoi aggiungerci anche, noi lo facciamo regolarmente quando facciamo i nostri bar catering, adesso abbiamo la nostra tabella di tutte le bottiglie che utilizziamo nel nostro catering e anche del ghiaccio, quanto ci costa un cubetto di ghiaccio, facciamo la stessa cosa quindi quanto costa il ghiaccio, per esempio 2 euro al chilo, per esempio andiamo a suddividere quanto pesa un cubetto di ghiaccio, quindi in questo caso è come se fosse la porzione, un cubetto di ghiaccio pesa 20-22 grammi, quindi fai semplicemente 2 euro diviso quanti cubetti di ghiaccio ci sono e vai a moltiplicare quindi in grammi e li moltiplichi per il cubetto quindi 22 grammi. A questo punto saprai quanto ti costa un cubetto di ghiaccio, poi quanti cubetti di ghiaccio metti nel bicchiere per esempio 7 8 10 dipende da quanto è il bicchiere e vai a capire anche quanto ti incide il ghiaccio che sembra poco però effettivamente non lo è. Bene, chiaramente un pochino tecnico però prova a fare delle esercitazioni perché ti potrà aiutare tantissimo questa cosa qui e come puoi vedere il bar non è solo fatto di buongiorno buonasera e come si fa martini cocktail ma queste sono cose che devi sapere se vuoi spostarti ad un livello diciamo più avanzato. Bene, se ti è piaciuto questo video mi raccomando un bel pollice in su, commento e condividi con i tuoi amici in questo modo mi darai la possibilità di continuare a crescere e a darti maggiore contenuto gratuito. Approfitta dei commenti insomma se c'è qualche argomento che vorresti approfondire o se c'è qualche domanda in merito a questo argomento che abbiamo trattato. Mi raccomando iscriviti al canale se non l'hai già fatto e clicca sulla campanella in questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche una visione. Non resta altro che dirsi ci vediamo 1 2 3 4 ci hai calcoli sto ancora facendo presto anzi prestissimo alla prossima ciao 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 ciao